Grazie, grazie, sto cos'è troppa, eh sì sono venuta qui per fare qualche foto, perché io ho l'opi della foto, siamo in due in Italia avere l'opi della foto, io e la Lollo, la Lollo Brigida, facciamo qualche foto così bene, ma devo trovare una faccia espressiva, perché mi devo presentare per questa grande mostra che fanno della fotografia e allora devo trovare un viso con i baffi, possibilmente. Signore, il suo marito, il suo marito signora, me lo presta per tre minuti, mi ringrazio, ma è bella signora, però vi pigliate la velo, no, solo tre minuti, grazie. Grazie. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma che sto fatto, non mi affatto. a notte come faccia, va te, fino a ritratto, non lo posso a me, e perciò questa codacca, metto di che faccia, che lo vanno a provare, e ti vanno a sviluppare, faccia fanno sviluppare me lo farò? che sta manero in peple. La prima che ti fai ci provi tutto, ti facciय, ti profili…" E vaffanica, tu mi ricciami Una non basta, me ne faccio tre E sono pronto, vaffan, vaffan Sempre pronto, vaffan La macchinetta è buona, so Dimma, quando ne vuoi fare? E voi, dite voi, signore Io sono qui a vostra disposizione Quando ne volete fare? Vogliamo fare un bel poster? Che gli piace i poster grossi, così? No 18 per 24 Ma giù capito Sei formato tester Più piccerelli, insomma, sono più bellini Davo, vaffan Davo, vaffan Davo, vaffan Davo, vaffan Davo, vaffan Davo, vaffan Vaffan E waters Vaffan Vaffan E avuto E avuto Pregnate Grazie.